Buonasera siamo all'interno della mostra Medeo Modigliani il turnico dovere salvare i tuoi sogni curata dall'associazione culturale Cosmos 3 e siamo nella suite Modi dove raccogliamo oggi il Deja Vu questo duo musicale composto da Giovanni e da Salvatore e abbiamo fortemente voluti qui questa suite di oggi perché ascoltando i loro brani emerge la necessità di un ricorso al sogno che poi è il filo conduttore della mostra la mostra appunto prende il nome da un aforisma del Medeo Modigliani il turnico dovere salvare i tuoi sogni e quindi abbiamo pensato che quale occasione migliore se non incontrare in questa suite il Deja Vu. Il Deja Vu perché di qualvolta prendiamo le chitarre e riproviamo le stesse emozioni insomma di jazz Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sono una vergine, sono un'anima, sono una vergine, sono un'anima, fragile, debole, ma non c'erò vicino alle mie gioie, sì, non pensierò in questo mio momento. Sono una vergine, sono un'anima, 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 sono un il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni Parco Nazionale della Sila, Centro Visite, Monaco, Villa Giovancuso, Taverna e Catanzaro Amedeo Modigliani, Cosmos Trev, Deja Vu Grazie Grazie a te Grazie Grazie Grazie